Non badare se tardiamo, non c'è nulla di importante che ci attende è l'indifferenza sorridente di chi non ha niente tranne il dono dell'età con gli assegni rilasciati dalla banca inesauribile dei sogni tutto ciò che vedo attorno a me posso comprare per offrirlo solo a te non costa niente la libertà di improvvisare ciò che non sia improvvisando regalo a te le mille cose che desideri da me arabeschi luminosi e girando le color arcobaleno con una carezza raccoglierò ed illuminare il tuo sorriso potrò non badare se tardiamo non c'è nulla di importante che ci attende mentre tu sorridi vicino a me io ti do la mano e mi allontano con te la 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 Grazie a tutti.